Isernia, vietato sentirsi male a Pasqua e Pasquetta, perlomeno nelle ore notturne. In questi giorni il servizio di continuità assistenziale, ovvero l'ex guardia medica, non potrà essere garantito nel capoluogo Pentro a causa della carenza del personale medico. Ma il problema purtroppo non riguarda solo i due giorni festivi. Per tutto il mese di aprile, infatti, il presidio del centro storico non sarà in grado di assicurare l'operatività in diverse fasce orarie. Per la precisione, i turni interessati sono quelli dalle 8 di sera alle 8 del mattino, dell'8, 9 e 10 aprile, del weekend del 15 e 16 aprile, del fine settimana del 22 e 23 aprile. Stessa situazione per quanto riguarda il ponte del 25 aprile. In tal caso, il servizio non potrà essere garantito nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20 di lunedì 24 aprile e per il turno dalle 20 alle 8 di martedì 25. Nell'ultimo fine settimana del mese, invece, la guardia medica Pentra potrebbe non assicurare l'operatività nell'orario notturno di sabato 29 e per l'intera giornata di domenica 30. Che fare dunque nel caso si renda necessario consultare un medico in queste date? L'opzione è quella di rivolgersi ai presidi di guardia medica più vicini, ovvero Macchia di Sernia, Cantalupo nel Sannio, Civitanova del Sannio o Sessano del Molise. In queste sedi, infatti, il servizio di continuità assistenziale sarà regolarmente svolto. Per le emergenze e urgenze resta naturalmente attivo il 118. Una situazione, quella della guardia medica Isernina, che va ad aggiungersi alle varie criticità che in questo periodo affliggono la sanità dell'area della provincia Pentra, come le recenti problematiche relative alla gestione dei turni del personale medico del 118, che aveva portato alla demedicalizzazione della postazione di Frosolone prima e di Agnone poi. Se per quest'ultima sede pare si sia trovata una soluzione attingendo all'organico di Venafro, di conseguenza si viene ora a trovare in difficoltà la postazione del Santissimo Rosario. Un problema, quello dell'esiguità dell'organico, con cui da tempo si trova a fare conti il pronto soccorso dell'ospedale veneziale e che in questi giorni sta interessando anche il reparto di chirurgia.